Lunedì 27 gennaio alle ore 18 e 30 presso il comodo della polizia locale di Fossano si è tenuto un incontro cui hanno partecipato le forze dell'ordine, l'amministrazione e di capi cantone con i rappresentanti dei consigli frazionali. Tema della riunione è la sicurezza di crescente allarme furti che si sta diffondendo soprattutto nelle campagne. Il capitano Barbabella ha evidenziato che dati alla mano i furti sul territorio sono meno numerosi che in altre realtà della Granda, succede però che la percezione che si ha del fenomeno risulti essere più alta della realtà. Occorre sensibilizzare la popolazione al fine di evitare comportamenti che possono favorire atti criminosi. I rappresentanti delle frazioni hanno suggerito di promuovere la creazione di reti frazionali che possano far riferimento ai rispettivi capi cantone con l'obiettivo di far partire degli allarmi tempestivi, anche tramite sms, che possano mobilitare in tempi molto stretti i frazionisti. Sia il comandante della polizia locale che il capitano Barbabella hanno ribadito la disponibilità da organizzare degli incontri di sensibilizzazione sul tema con i cittadini delle frazioni. Il sindaco di Alba consegnerà un attestato di riconoscenza a Gianluca Cinciotti e Francesca Eusebio, i due assistenti di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale Montaldo di Alba, che il 3 dicembre 2013 hanno soccorso una donna salvandola dall'attacco di due cani, dimostrando senso civico, qualità professionali e determinazione operativa. La cerimonia si terrà sabato 1 febbraio alle ore 10.30 nella sala della Resistenza del Palazzo Comunale di Alba. Domenica sera un 45enne ligure con alcuni amici ha pensato bene di testare la propria autovettura sulle piste d'asci di Prato Nevoso. Con una BMW X3 ha superato gli ostacoli ed ha iniziato a scarrozzare sulla pista 3 per dirigersi verso la pista 3 bis. Quindi ha cominciato ad affrontare la pista fino all'altezza del cannone di innevamento artificiale. L'autovettura ha finito le sue evoluzioni sprofondando nella neve fresca. Alcuni passanti hanno telefonato al sovrintendente della Polizia di Stato informandolo dell'accaduto. Il poliziotto, valutando che l'indomani la stazione scistica sarebbe stata meta di numerosi turisti, ha fatto intervenire i mezzi battipista che sono riusciti a rimuovere l'autovettura e rendere nuovamente agibili le piste. Il divertimento è costato 800,28 euro di multa. Disagia la circolazione ferroviaria ieri mattina a causa di un furto piuttosto consistente di rame nei pressi della stazione di Moncalieri. Nella notte sono stati trafugati quasi 3 chilometri di cavi, ciò che ha causato guasti a sistema di gestione del traffico ferroviario. Il danno ammonta circa 14.000 euro a cui si aggiungono le spese per il ripristino. Sono stati 51 i treni coinvolti in circolazione sulle linee Torino-Savona, Torino-Genova, Torino-Cuneo e servizi metropolitani 1, 4, 6 e 7. Ritardi medi di 15 minuti con punte di 25. Una vera e propria piaga è quella del furto di rame. In Piemonte nel 2013 i furti sono stati 140 per un danno di oltre 1.300.000 euro e circa 100.000 kg di rame trafugato. Oltre 800 i treni coinvolti per un totale di 250 ore di ritardo. Il sindaco di Cissone Luigi della Ferrera ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 8 gennaio 2014 e le stesse, dai corsi 20 giorni dalla data di presentazione senza che il sindaco le abbia ritirate, sono divenute irrevocabili a termini di legge. Si è pertanto verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 41,1 del Decreto Legislativo numero 267 per lo scioglimento dello stesso organo da parte del Presidente della Repubblica e la contestuale nomina di un commissario straordinario. Attesa la grave ed urgente necessità di assicurare la normale prosecuzione dell'attività amministrativa delle ente, si è provveduto a sospendere il Consiglio Comunale di Cissone da nominare un commissario nella persona del Vice Prefetto aggiunto dottor Francesco D'Angelo, cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. Si avvicina febbraio e come spesso è capitato negli ultimi anni arriva anche la neve. Dopo le copiose nevicate in quota di due settimane fa è arrivata una perturbazione atlantica che determinerà la prima vera nevicata della stagione, anche in pianura. Molte nubi con nevicate deboli o moderate, in intensificazione tra sera e notte. Accumuli medi stimati di circa 10 cm, più consistenti su entroterra Ligure, qui fino a 20-30 cm. Temperature in calo, minima e massimo intorno agli 0 gradi. Le condizioni di maltempo continueranno giovedì 31 gennaio con fenomeni nevosi in diminuzione. Le temperature dovrebbero aumentare e i fiocchi di neve si trasformeranno in pioggia.